Direttore, una polemica negli ultimi giorni venuta fuori dai sindacati che hanno criticato questa scelta di affidare soldi ad una società privata, Radio Sanit, per effettuare delle prestazioni. I pazienti teramani, gli utenti teramani, per una serie di risonanze oggi possono aspettare anche fino a due anni. Ripeto, due anni. Noi questo è il problema che dobbiamo risolvere. Il nostro interlocutore deve essere l'utente finale. Ora, a Teramo c'è una sola risonanza. In tutta la provincia di Teramo c'è una sola risonanza. Noi abbiamo fatto la richiesta per l'acquisto delle attrezzature. Richiesta che ancora non è stata evasa dalla Regione. Così come abbiamo fatto la richiesta per l'assunzione dei radiologi. Nell'uno e nell'altro caso, se va bene, ci mettiamo sei mesi. Come risolviamo subito il problema? La Regione ci è venuta incontro e ha fatto un piano generale per tutta la Regione Abruzzo, consentendo alle aziende sanitarie l'utilizzo degli erogatori privati accreditati per l'abbattimento delle liste d'attesa. Ed è quello che abbiamo fatto qui a Teramo. Al di là di questa polemica, poi c'è quella che tiene banco negli ultimi giorni che riguarda questo super ospedale da fare a cavallo del Gran Sasso, praticamente, tra l'Aquila e Teramo. Ma no, questo è ancora presto. La divisione tra l'Aquila e Teramo mi sembra ancora un po' prematura. Io sono molto più interessato a un super ospedale tutto teramano, messo tra Teramo, Giulianova e Atri, chiudendo questi tre e facendone uno moderno, nuovo, tecnologico, con l'ospitalità alberghiera che merita la provincia di Teramo. L'ubicazione migliore potrebbe essere quella che era stata indicata qualche tempo fa, vale a dire Mosciano? Sì, credo così a occhio che tutta la zona che va da Bellante fino a Mosciano all'uscita dell'autostrada sia una zona baricentrica rispetto a questi tre siti, sia inoltre servita dalla strada la Teramo-Mare, che attende anche un suo prolungamento verso Giulianova, ed è già servita dalla ferrovia che, provenendo sia da sud, da Pescara, sia da Giulianova, potrebbe diventare anche una metropolitana leggera con una fermata dentro l'ospedale. La maggior parte della popolazione teramana, Costa più Teramo, si troverebbe a non più di 20 minuti di distanza da un ospedale efficiente.